Una buona giornata Ben svegliati e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa di mattino 6 Siamo pronti per andare a sfogliare i giornali partendo dalla prima parte Ovviamente dalle prime pagine, dalle vetrine, dei quotidiani che trovate già in edicola Partiamo con i quotidiani di casa nostra e con le quattro prime pagine del quotidiano Il Centro Questa è l'edizione di Pescara che apre con la cronaca e con questo dato un po' particolare Che riguarda una tabaccaia rapinata sette volte è successo a Via del Santuario La titolare minacciata dal bandito con un coltello, insomma rapine reiterate per questa tabaccaia di Pescara In alto ovviamente il richiamo alla visita ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Per i 30 anni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare L'elogio di Mattarella, Laboratori del Gran Sasso sono un'eccellenza d'Italia E poi siamo anche a un anno dal sisma, Campotosto il viaggio nel paese raso al suolo Scendiamo a centro pagina con la fotonotizia che riguarda Città Sant'Angelo Tra i luoghi dove si sta meglio al mondo È una classifica della rivista statunitense Forbes E ha scelto il centro angolano evidentemente per tutta una serie di parametri Come uno dei posti dove si vive meglio Di spalla nelle cronache e torniamo sulla tragedia di Rigopiano Anche perché siamo davvero vicini a un anno da quella tragedia Il 18 gennaio, quindi tra due giorni ricorrerà purtroppo il triste anniversario Provolo l'ex prefetto di Pescara, adesso non è più prefetto di Pescara Disse la viabilità non preoccupa Dalle carte degli inquirenti spunta il verbale della riunione delle 15.30 Proprio del 18 gennaio 2007 Convocata in provincia da D'Alfonso con il prefetto Provolo Ma Rigopiano non era evidentemente in quella riunione tra le emergenze Cambiamo argomento Il patto a Pescara, i sindaci uniti nella lotta contro lo smog Ancora in basso, sempre a Pescara I commercianti, pista ciclabile in via Fabrizi Ancora cronaca, ma siamo a cavallo tra Abruzzo e Molise Siamo sulla Trignina, due morti nello schianto Sangue sulla strada che collega l'Abruzzo al Molise Un tir travolge altri tre mezzi causando due decessi Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara La cambiamo Andiamo su quella aquilana Che sceglie di aprire con le parole del Presidente della Repubblica Sui laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratorio Orgoglio Nazionale Gran Sasso L'elogio di Mattarella alla festa per i 30 anni dell'INFN Saliamo in alto Viaggio a Campotosto Anche qui, come vedete, il richiamo A quello che oramai viene definito un paese fantasma A un anno dal sisma e dalla nevicata E poi la questione autostrade L'incontro a Roma Fumata nera per A24 e A25 Per il momento rimane il caro pedaggi A discapito ovviamente solo ed esclusivamente Di chi l'autostrada purtroppo la prende Nelle cronache Avezzano La ASL annuncia Olicar salvi i lavoratori Nel giro di 20 giorni Afferma il Direttore Generale della ASL Rinaldo Tordera Affideremo il servizio di diversi settori della manutenzione Salvaguardando così i livelli occupati A Sulmona picchiatori della Movida Cinque condanne E a Celano invece evade un milione di tasse Nei guai un agricoltore E poi sotto la foto notizia Che richiama ovviamente la visita del presidente Mattarella Elicottero precipitato Sei indagati Ricorderete la tragedia di Campo Felice L'Aquila ha chiuso l'inchiesta Sotto accusa tecnici e manager Edizione teramana del centro Anche qui con un richiamo alla cronaca Ma torniamo su una vicenda di qualche giorno fa Ricordate lo scuolabus a fuoco Con i bambini dentro E poi per fortuna non ci sono state conseguenze I bambini tutti in salvo Ma ci sono due indagati come vedete Torricella Sono dipendenti del comune E allora il pubblico ministero Ordina una consulenza La foto notizia In 300 al pranzo per aiutare la storica corale Verdi raccolti oltre 2000 euro In più di 300 hanno partecipato domenica scorsa Tofo Sant'Eleuterio al pranzo per aiutare il coro Verdi Un'istituzione che quest'anno compie 70 anni Ospite d'onore il maestro Egno Vetuschi Che lo vediamo nella foto proprio a destra Nelle cronache Dopo il terremoto edilizia Ci sono 133 milioni per ripartire Il settore dell'edilizia del Terramano Leggiamo ha perso 5.500 posti di lavoro dal 2008 Ora dopo il sisma i soldi per ripartire ci sono Ma gli enti pubblici non riescono a fare le progettazioni Sulla Statale 81 parliamo di viabilità Garrano aperta variante Beffa E così il paese è isolato Tra centro e periferia Roseto progetta due nuove piste ciclabili Chiudiamo le quattro edizioni del centro Con l'edizione di Chieti Che ovviamente sceglie l'incidente sulla Trignina Per aprire la pagina Tir sbanda due morti sulla Trignina Le vittime di una ditta di luminaria di Crecchio Travolte dal mezzo pesante E vedete anche la foto Le auto delle vittime Schiacciate dal terra Sulla Fondo Valle Nelle cronache a Lanciano Attrezzature rubate al centro per i disabili Hanno scardinato Leggiamo La porta è fatto Razzia di attrezzi per lavorare legno e creta Usati dai disabili del centro psicosociale Per i laboratori Ora 20 ragazzi Sono costretti a restare a casa A Chieti Lite in tribunale sulla fondazione per il figlio morto Avvasto Filmati sexy SMS inchiodano l'ex fidanzato E poi ancora cronaca Insulti e molesti al 118 A processo Giovane di Villa Santa Maria Accusato di frasi sconce e parolacce Verso le operatrici appunto del 118 Cambiamo quotidiano adesso Vediamo la prima pagina del messaggero Ovviamente edizione Abruzzo Poi vedremo anche la prima dell'edizione nazionale Anche qui La cronaca Due morti nell'auto Sotto un tir La tragedia Lungo la Trignina Al confine tra Abruzzo e Molise Le vittime Lavoratori di una ditta di luminare Sono di crecchio Gravissimi L'autista del camion E anche Una donna In alto Viaggio Tra le Agora Pescara Piazza Troilo E la difficile ricerca di un'identità E poi l'evento a Chieti Boom di richieste Tre maxi schermi Per il concerto di Uto Ugi Per lo sport Ovviamente il Pescara Stretta Per Embalo Oggi in arrivo dal Palermo Nel Teramo Foggia Lascia la squadra E si accasa La Sicula Leonzio Nero Stellati Arriva Mecomona Con l'Aquila Cafiero Nel Mirino In serie C Di spalla Università top 8 milioni Al Dipartimento di Neuroscienze Viene definita Ovviamente una ricerca Premiata Come spesso Purtroppo Non accade All'Aquila Vedete la foto Notizia La visita Del Presidente Della Repubblica Che ha detto I laboratori Del Gran Sasso Sono L'orgoglio D'Italia E poi di lato Il patto Antismog Dei sindaci Bici E targhe alterne Pescara I comuni Dell'area metropolitana Per la prima volta Studiano Una strategia Che sia Unica Contro L'inquinamento A Teramo Cessato l'allarme L'aria È ok Dopo L'incendio L'incendio Nei locali Dell'Asla Contrada Casalena In basso Rigopiano La denuncia Portati a morire Con la scorta Poi ovviamente Vedremo Di che cosa Si tratta Entrando All'interno Delle pagine Del giornale Andiamo in Restiamo in Provincia di Teramo Con la prima pagina Del quotidiano La città Poltrona calda All'ater di Teramo Area di cambiamento Al vertice Scontro in regione Sul successore Dell'Aquilano Rampini In alto Campo Felice Sei indagati Per lo schianto Dell'elicottero E a Teramo Invece Rogo a Casalena L'Arta Esclude Delle Contaminazioni Vediamo Il centro Della pagina Ovviamente Con la foto Del Presidente Della Repubblica Mattarella In quella che È stata definita Cattedrale Della scienza I laboratori Di fisica Del Gran Sasso In basso Rifiuti Aumenti Tari Tagliati Del 25% Siamo a Roseto Il sindaco Di Girolamo Mantiene La promessa Di spalla Altre notizie Torricella Sicura Due indagati Per lo scuolabus Andato A fuoco Scendiamo Isola Del Gran Sasso Zona rossa Nelle mani Dei vandali A Giulianova Invece Arrestati Due Finti Carabinieri E in basso Addio Speranze Capitale Della cultura 2020 Teramo Fuori dalla rosa Delle dieci Città Finaliste Questa era la prima pagina Anche del quotidiano La città Adesso vediamo I quotidiani Nazionali Come decidono Di aprire Quali sono le principali Notizie Della giornata Di oggi Corriere della sera Siamo in piena Campagna elettorale Per le politiche Ma ci sono A tenere banco Ancora Frasi shock E scontri Fontana Candidato leghista Razza bianca A rischio Poi si corregge Di Maio Polemica Sui vaccini Verso il voto Il centro-sinistra Accusa Il candidato leghista In Lombardia Salvini Addirittura Vorrebbe riaprire Le case chiuse A centro-pagina Il Papa Con la foto Di Nagasaki Temo Una guerra Nucleare Siamo al limite Ho paura Di una nuova guerra Nucleare Papa Francesco Parla sull'aereo Che lo porta in Cile E dona ai cronisti Una foto simbolo Di un bambino Scattato Nel 1945 A Nagasaki Dopo l'esplosione Che distrusse La città Giapponese La paura Di un nuovo Incubo nucleare E l'immagine Ovviamente Simbolo La Repubblica Ovviamente Sempre la campagna elettorale In Prima In apertura Difendo i bianchi Scontro su Fontana Appello di Tigori All'EU Liberi E uguali Non deve Vincere Lombardia Forza Italia Si smarca Dal candidato leghista Dopo la gaffa Razzista Il Partito Democratico Blinda La Boschi E poi Il racconto La grande carica Degli indesiderati Che però Vanno A caccia Dei seggi Per la prossima Tornata Elettorale E poi L'immagine Mio figlio Nella baby gang Di Napoli Così L'ho scoperto Un racconto Evidentemente Di un Genitore L'allarme Di Papa Francesco In basso Il Papa E la foto Di Nagasaki Ricordate Questi bambini Ho paura Della guerra Atomica L'intervista La festa Triste Di Capitano Ultimo Sono caduto Continuo A lottare E poi Una notizia Che insomma Avete sentito Magari Già nella Tarda O pomeriggio Di ieri La scomparsa Di Dolores Orjordan Addio alla voce Dei Cranberries Magia Del rock In un albergo Di Londra E morta Improvvisamente A 46 anni La leader Della band Irlandese Che soprattutto Negli anni 90 Ebbe un successo Davvero Planetario Anche grazie Alla voce Di Dolores Orjordan La stampa Razza e prostituzione Lega shock Fontana Noi bianchi A rischio Per gli immigrati Salvini Riaprire le case chiuse L'ira di Berlusconi Così ci danneggia Il partito democratico Minniti Spiegherà la strategia Sugli sbarchi Di Maio Basta Obbligo Vaccini Insomma Sembra una Gara A chi Punta più In alto Nel Dirla Grossa La fotonotizia Hollywood Il riscatto Dei reporter The Post Manifesto Del buon giornalismo E l'Unione Europea Dichiara Guerra Alle Fake News Il fatto quotidiano Rottamazione Allarenzi Ricicla Casini E tratta pure Con Verdini Riesumati Per mesi Hanno votato Con il governo Ora sono pronti A correre Insieme In alto L'economista Sulle banche De Benedetti Si è mosso Come Berlusconi Zingales Negli anni Ha fatto milioni Grazie alla Politica E poi L'accusa Alluvione Nogarin Indagato A Livorno Concorso In Omicidio Colposo In Sicilia Miciche Beatifica Mori Imputato Per la Trattativa A Lars Il film Di Ambrogio Crespi Il manifesto Eccessi Ovviamente Con Fontana E Salvini Che si stringono La mano La campagna elettorale Degenera Sul dramma Dei migranti Il candidato Del centrodestra In Lombardia E leghista Fontana Usa parole Trampiste Arrischio La razza bianca Mentre il governo Sbandiera le cifre In calo Degli sbarchi Accolte Solo 4 richieste Di asilo Su 10 In basso L'Italia In Africa La ministra Pinotti In Niger Per difendere I confini E Salvini Si accoda Al partito Democratico Voteremo A favore Caos Libia Battaglia All'aeroporto Di Tripoli Tra due milizie Legate al governo Serrai Il messaggero Ma L'edizione Nazionale Fa un po' Cerca di pesare Quanto valgono Alcuni temi In campagna elettorale Secondo il messaggero Quotidiano Capitolino La linea dura Sui migranti Varrebbe Il 30% Del consenso Il leghista Fontana Dice Troppi sbarchi Razza bianca A rischio Poi la frenata Ma esplode la polemica Il contrasto A scafisti E clandestini È il tema Più sentito Fra gli elettori Leggiamo Dopo quello Del Lavoro A centropagina Roma La sicurezza Dimenticata Dopo le violenze Nelle ville Storiche E all'Italia Ricavi ok Tra i pretendenti Adesso è Gara sul prezzo Più tempo per cederla Dopo la calata in campo Di Air France KLM Delta E la crescita Del Fatturato Poi le regole Leggiamo Di Ryanair La guerra del trolley Quelli grandi Vanno in stiva La scatta La rivoluzione Valigie di Ryanair Non è più possibile Portare due bagagli A bordo Gratuitamente E chissà quante persone Dovranno evidentemente Agire di conseguenza Il tempo Consipe arma Ecco la mia verità Del 7 Parla l'ex comandante Generale Dei Carabinieri Io ho sbattuto In prima pagina Ho pensato fosse peggio Della morte Ma ho la coscienza pulita Lascio un corpo sano E affidabile Che non fa sconti A chi sbaglia E sul capitano ultimo E poi ovviamente Ci sarebbe Da leggere L'intervista A centropagina Una buona passeggiata Un'anziana signora A Roma Va a spasso i parioli E inghiottita Da questa voragine Nel marciapiede Insomma Che dimostra Un po' L'incuria In alcune zone Della capitale Di spalla Di spalla verso il voto Stop stranieri Oppure addio Razza bianca Ed è bufera Sul leghista Fontana E poi I sondaggi nel Lazio Centrodestra Pirozzi Pirozzi cresce I tre potenziali acquirenti Intende farsene carico Ormai il salvataggio Il conto del salvataggio Sfiora i 10 miliardi E la vendita Slitta Ancora E poi Centropagina Liberate subito Questa lince È più buona Di un micione Ma la tengono chiusa In Gabbia In basso Le scuole Senza povere immigrati Attraggono di più Gli italiani La pubblica istruzione È un specchio Della Società Ed evidentemente Questo è Quello che Viene fuori Dalla ricerca Di Libero Evidentemente La verità Zitti zitti Riaprono La Camera Per mandarci A fare la guerra A meno di due mesi Dalle elezioni A Montecitorio Si vota Per approvare La missione Militare In Niger Spediamo 500 soldati Contro i traffici Illegiti Il sospetto Faremmo gli interessi Dei francesi E i pacifisti Spariti Poi la fotonotizia La lezione Di Carlo Verdone Contro le denunce Fuori tempo Per molestie Sessuali A centro pagina Padoan Taglia il debito Ma ha spese nostre Bruciati 20 miliardi Di riserve Del tesoro Per poter fare Bella figura In campagna Elettorale L'avvenire Più soli Più violenti Emergenza Baby gang A Napoli E non solo Vertice con Minniti Sepe Ora una nuova Alleanza Aumentano gli episodi Di microcriminalità E vandalismo Commessi dai minori I deficit educativi Di famiglie Scuole E istituzioni E poi la foto del Papa Il Papa ritorna a denunciare Il rischio nucleare Con la foto del bambino Di Nagasaki Politica Fontana scivola Dobbiamo tutelare I bianchi Coro di condanne Lui si difende Un lapsus Il secolo XIX Razzismo Bufera su Fontana Frase shock sui migranti Poi si corregge E Salvini vuole riaprire Le case chiuse Imbarazzo Tra gli alleati Della Lega Candidature Grandi manovre In Liguria Ovviamente siamo Sul secolo XIX E il focus È dedicato Proprio alla Liguria Invece il mattino Siamo a Napoli Baby gang Minniti in campo Nuovo agguata Un sedicenne Che dice Ora ho paura Di uscire di casa Oggi vertice d'urgenza Con il ministro Dell'interno a Napoli Guarda Sigilli E Orlando Serve un esercito Di educatori E poi tra le storie Resto al sud Scatta la corsa Per fare Impresa In Campania Per la politica Il Movimento 5 Stelle Volano i sondaggi Grillini Tra il 33 e il 35% All'Uvione di Livorno Il sindaco È indagato Per omicidio E poi Shock in Lombardia La razza bianca È da difendere Fontana Il lapsus Che parla Da sé Chiudiamo Le testate nazionali Almeno quelle generaliste Con il sole 24 ore Che di fatto Poi generalista È fino a un certo punto Perché ha Focus ovviamente Sulle questioni Economico Finanziarie Sole 24 ore Che apre Con l'IVA Perché sull'IVA Ci saranno controlli Rafforzati L'UE prepara la riforma Flessibilità sulle aliquote Con media del 12% Più facile L'incrocio dei dati Per scoprire L'imposta non pagata E chiedere Ai contribuenti Di correggersi E poi Per la politica Monetaria L'euro È sempre Più forte Mentre Le parole di Marchionne FCA Non ha bisogno Di un partner Tra poco Leggeremo Entreremo Anche all'interno Dei quotidiani Di Casa Nostra Ma intanto Vediamo La gazzetta Dello sport Andiamo sui quotidiani Sportivi Perché Siamo in pieno Calciomercato E le storie Di calciomercato Si incrociano Sempre più Con quelle Della Della Cina Del Del Sollevante Allora La gazzetta Lo sport Apre con Quelli che Definisce Scherzi Cinesi Inter e Roma Corsa Champions Si sfideranno Domenica Ma intanto Sono due trattative Che si intrecciano Proprio con la Cina Perché In casa Inter Del brasiliano Ramirez Blindato A Nanchino La tv di Suning Raffredda le speranze Di Spalletti Non se ne va Resta lo Giang Su Nengolani Invece Siamo in casa Roma Era virtualmente Ceduto All'Evergrande Di Cannavaro Ma ieri C'è stata Una Brusca Frenata Altre notizie Di calcio Caccia all'impresa Ai Buffon Il primato Di Maldini Può sfuggire Il numero uno Della Juve Se salterà Pure il Genoa Non potrà Eguagliare Il record Di presenze In serie A Per la vendita Del Milan Vendita del Milan In procura La relazione Della guardia Di finanza Nei prossimi giorni Si deciderà Se aprire Un fascicolo Intanto Suso Dice Voglio rimanere Altre Altre questioni Che riguardano Lo sport Scendiamo in basso Per il motociclismo Dovizioso E Lorenzo Si lanciano Questa Ducati Può vincere il mondiale A Nuova Desmo 16 Presentata con i due piloti Poche piste Ci metteranno In difficoltà E Dovizioso Ci è andato Già vicino Quest'anno Prima di arrendersi A Mark Marquez Miss Italia Invece E siamo A parlare di ciclismo In sfilata Con le maglie Del giro La Arlank Sarà Madrina Della prossima edizione E dice Sono al settimo cielo Ma in alto Ecco La notizia Che riguarda Elena Fanchini Forza Elena Volevo smettere Ma ora Dopo la Valangarosa Lotto Batto il tumore E torno I successi Delle sue amiche In azzurro Regalano un sorriso Alla maggiore Delle sorelle Fanchini All'Olimpiade Con fiducia Abbiamo una squadra Fortissima Cambiamo quotidiano Il Corriere dello Sport Parla Lotito Che era candidato Uno dei Si pensava Potesse candidarsi Alla poltrona di Massimo Sponente Della FIGC Così non è stato Il presidente Bianco Celeste Dice tutto Milenkovic Savic Resta con noi Andremo in Champions La FIGC Ho scelto di tutelare La mia Lazio In alto Per il calciomercato Real sui cardi Ecco l'offerta Gli spagnoli Pronti a pagare La clausola I 110 milioni Maurito Primo obiettivo Della rifondazione Madridista Insomma Real Madrid Sta andando Veramente male Intanto Rimaniamo sempre In casa Lazio Perché firma Il prolungamento Del contratto Stefan De Frey Fino al 2019 Con clausa De recessione A 25 milioni In basso Nainggolan Per Nainggolan Nessuna richiesta Napoli Super Goulam E Giaguarito Recupero Lampo Da oggi si allena E poi la sfida Ducati Vogliamo Il mondiale Chiudiamo con il Quotidiano Tutto Sport Parla Nedved Ovviamente Siamo in casa Juventus Voglio il settimo E poi Tutto Il resto Ma si fa sfuggire Anche due questioni Di mercato Baracca e Iancto Mi piacciono Di spalla Siamo in casa Torino Ora Belotti È un caso Mazzarri Pensaci tu Napoli Verdi Subito sì Oppure decisi Su Deulofeu MotoGP Ducati 2018 E una rossa Da mondiale Ancora in basso Viva il VAR Sui falli di mano Bisogna guardare Di più Le immagini Ieri c'è stato Un incontro Tra gli allenatori E gli arbitri Per proprio sul Sistema Di videoassistenza Arbitrale E poi per il basket Follia Torino Via Luca Banchi Al suo posto Arriva Ricalcati Ma con un punto interrogativo Che lascia ancora tutto In sospeso Ci fermiamo adesso Per la pubblicità Prima le previsioni Del meteo Poi la pubblicità E poi entreremo All'interno dei quotidiani Di casa nostra Tra poco Seconda parte di mattino 6 Allora adesso Entriamo all'interno Dei quotidiani Ripartendo ovviamente Dal centro E apre Con La visita di Mattarella Ai laboratori Del Gran Sasso Voi siete L'eccellenza d'Italia Elogio All'Abruzzo Del capo dello Stato Alla cerimonia Per celebrare L'INFN Desideravo da tempo Venire in questa realtà Che dà Prestigio Alla nazione La storia dell'Istituto Dal Borexino Allo Xenon Il sogno È quello Di svelare La materia Oscura E poi Parla lo scienziato Zichichi Genio di 88 anni Racconta Le liti Con pannella Il papà Dei laboratori Così convinse anche lui Che non c'era il rischio nucleare E sull'esperimento Sox Dice I miei colleghi Dovevano spiegarlo Meglio Alla Gente E poi Questa foto Perché il regalo Al presidente Della Repubblica Lo vedete da parte Del governatore D'Alfonso Un libro Dedicato Proprio Alla Nostra Regione Ma torniamo su quest'altra pagina Perché ci sono proprio le parole Del governatore D'Alfonso Che dice Noi continueremo A monitorare La qualità Dell'acqua Che è quello che Insomma Ha un po' Crede Stato preoccupazione Nella Nella popolazione Abruzzese Poi Il direttore Ragazzi Che ha parlato Nell'intervista Alle Iene Non me ne pento Non me ne pento È stata un'intervista A sorpresa Nel marzo scorso Me ne sono trovati Mi hanno fatto delle domande E io ho risposto Così Stefano Ragazzi Direttore Del laboratorio Del Gran Sasso Sull'intervista Di Nadia Toffa Intervista In cui ha messo In sostanza Possibili rischi Sulla convivenza Tra la sostruttura E il sistema Aquifero Del Gran Sasso Andiamo all'Aquila Rimandando sempre Nella pagina interna Pedaggi Intex Ricostruzione L'appello di Biondi Il sindaco dell'Aquila Ne ha Insomma Approfittato Per Lo vedete In foto Fare un appello Al capo Dello Stato Mattarella Sui problemi Che riguardano Proprio La sua città E a proposito Di caro pedaggi Entriamo proprio Sulla pagina abruzzese Caro pedaggi Fumata nera Al ministero Del Rio Non c'è Il confronto Tra strada Dei parchi E tecnici Punta sul nuovo Piano economico Delle tariffe Però non si parla Nell'incontro A Roma Di spalla Svolta Dell'alta formazione Università In Italia All'estero La regione In sostanza Un milione E mezzo Di euro In basso Per Trenitalia L'Abruzzo Viaggia in orario Lo dice un report Della società Secondo il quale Il 90% Dei clienti Sarebbe Soddisfatto Del servizio Di Trenitalia In Abruzzo Verso il voto Del 4 marzo Castricone Il PD Discuta sulle scelte Delle candidature Il deputato I nomi decisi Da un ristretto Numero di persone D'Alfonso Il partito Sembra troppo Schiacciato Su di lui Di spalla Il centrodestra Di Stefano Parla di sanità Al convegno Di Guardia Grele Pescara Vertice in comune Intesa tra E sei sindaci Per la lotta Allo smog I comuni Della costa E dell'area Metropolitana Pronte ad affrontare L'emergenza Lo studio Bici in affitto E targhe Alterne E vediamo Anche nel riquadro Insomma Le zone principali Dove sono installate Le centraline E anche La qualità Dell'aria Insomma Riassunto Tutto In questo Prospetto Molto Esemplificativo Andiamo avanti A pagina 15 Viabilità E sicurezza I negozianti Pista ciclabile In via Fabrizi Proposta All'amministrazione Un marciapiedi Più stretti Per fare spazio Alle bici Senza cancellare I parcheggi Per Le auto E questi sono Insomma Tutti I commercianti Che evidentemente Hanno fatto Questa Richiesta In basso Moretti Contrammiraglio Nelle Marche Promosso il comandante Della Capitaneria Di Pescara Stipulato con l'Arta Un accordo Ambientale Aggressione Siamo alla Cronaca Buttato giù dal bus E derubato Due arresti Presi I responsabili Avevano seguito Un anziano Dal centro commerciale Dopo aver tentato Di truffarlo Come finti Vigilantes E poi Scendiamo in basso Il colpo Ed è anche L'apertura Dell'edizione Di Pescara Tabaccaia Rapinata Per la settima Volta Bandito armato Di coltello Al punto vendita Di via del santuario Bottino Di poche Centinaia Di euro Rigopiano Un anno Dopo La figlia dei Di Pietro Sono un'orfana di Stato Parla la primogenita Dei coniugi di Loreto Tra le 29 vittime L'agenzia delle entrate Ha bloccato La successione Per quattro mesi Pensate Voleva sapere Chi fosse Morto Per primo Nella foto Vediamo anche Piero Di Pietro Indimenticato Anche per Gli appassionati Di sport Ricorderà Insomma Sulle panchine Delle squadre Abruzzesi Ci sono ancora Le parole Mio padre Ha fatto il suo dovere Fino all'ultimo Cosa che per lui Non hanno fatto Altri E domani A Loreto Gli ex compagni Scendono in campo Per lui A centropagina Le indagini Proprio su Rigopiano La viabilità Non preoccupa Ecco cosa disse Il prefetto Provolo Nel verbale Della riunione Con D'Alfonso Del 18 Gennaio Di un anno fa Nell'incontro In provincia Tra le 15.40 Alle 17.25 Rigopiano Non figurava Tra le emergenze Eppure Eravamo già Al 18 Di gennaio Cambiamo pagina Per buttare La spazzatura Restiamo a Pescara Si rischia di essere investiti I bidoni Della differenziata Sul lungomare Sono posizionati Con l'apertura Sul lato della strada Attiva pronta A correggere L'errore Segnateci I problemi E questi sono Questi cassonetti Evidentemente Pericolosi In basso Una nuova strada A Fontanelle Fondi per le feriferie Sopra al luogo Per collegare Via Tirino E Via Caduti Per servizio Ancora Sanremo Music Awards Al Flaiano Venerdì L'ultima tappa Delle selezioni Per accedere Alla finale Il 7 e l'8 febbraio Nella sede Del Dopo Festival In alto A Pescara Scontro in consiglio comunale Verso la conclusione Mercatino etnico Il voto Entro Venerdì E poi Il volo Bologna-Tirana Che è costretto Ad atterrare A Pescara Per un Malore Un passeggero Di 77 anni Si è sentito male Come da protocollo Il velivolo È atterrato Proprio All'aeroporto Di Pescara Montesilvano Tari Ancora 15 giorni Per ottenere il diritto A sconti O esenzioni Scade a fine mese Il termine per presentare Le domande Anziani Disabili Coppie Giovani Tra le categorie Beneficiate E poi Uno studente di robotica Del MIT Al Dascanio Ospite del liceo Scientifico Drew Beller Del MIT In basso Forbes Premia Città Sant'Angelo Secondo la rivista americana Il borgo Tra i dieci posti Al mondo Dove si vive Meglio Restiamo a Montesilvano Dal web alla vita vera Via l'Europa Torna a essere una comunità Esportato a Montesilvano L'esperimento Di social street Varato a Bologna Vogliamo conoscerci Aiutarci E parlare Chi è il promoter Del progetto? Castellano Dante Castellano Architetto E travel blogger Cambiamo pagina Andiamo a Francavilla Targa blu oro Per riconoscere Le attività storiche Entro fine mese Le iscrizioni All'albo comunale Per gli esercizi Commerciali Ricettivi Da 30 O 50 Anni La centropagina Ecco come bonificare L'ex fonderia San Giovanni Tiatino Proposta del consigliere Cutrupi Del Movimento 5 Stelle Recuperando fondi Da un piano Triennale In basso Francavillesi Generosi con l'Africa Asta di 4 Life E Slow Food Raccolti 4.140 euro Per la scuola In Burkina Faso Area vestina Adesso Penne punta Sul fibra ottica E rete wifi Gratuita Via opere Per ampliare E migliorare I servizi internet Con tecnologia Hyperlan Che consente Connessioni veloci A lunga distanza E carta di identità A elettronica A centropagina Per l'ospedale Rimaniamo a penne Sabato torna La protesta In piazza Incontro pubblico Convocato Per informare Gli utenti Sulle conseguenze Del declassamento In basso A tocco Da casauria Inaugurata La sezione Della Lilt Affollato Incontro Sulla prevenzione E sulla cura Dei tumori Andiamo All'Aquila Adesso Campotosto Nel paese Fantasma Dimenticato Da tutti Il viaggio Del centro Un anno dopo Il terremoto E la nevicata Il sindaco Chiede aiuto Alle istituzioni Lo sfogo Di Cannavici La ricostruzione Post-Sisma 2009 Non è mai partita Dobbiamo Accelerare Leggiamo anche Come è La situazione Rapidamente Chiese Municipio Crollati Ufficio postale Assinghioz E farmacia All'interno Di container Poi vedete Insomma Che Purtroppo Anche il bar Aperto Ma di fatto Stiamo parlando Di soluzioni Molto Purtroppo Provvisorie In un edificio Rimasto integro Si notano Le mortadelle Di Campotosto Simbolo Gastronomico A Chieti Tir contro Auto Due morti Schianto Sulla statale Le vittime Residenti a Crecchio Due feriti Sono in gravi condizioni E c'è sangue Dunque Sulla Trignina Conducente E passeggero Viaggiavano Su una Fiat Multipla Tornavano Da un incontro Di lavoro Per l'illuminare In ospedale Anche il padre Del guidatore Il mezzo pesante Sbandato Forse per un valore Del camionista E ha invaso La corsia opposta Finendo Contro una macchina E contro Due furgoni E poi le testimonianze Iesael Grande lavoratore Daniele Uno di noi Le reazioni a Crecchio Il sindaco Scarinci Ragazzo per bene L'avvocato Ferroni Ben integrato Qui A Teramo Due indagati Per lo scuolabus in fiamme Sono dipendenti del comune La procura dispone Una consulenza Per chiarire le cause E li iscrive Come atto Dovuto A centro pagina Processo ex terca Sparlano i testi In aula Ex direttore correntista Mai vista Una cosa Così Diabolica In basso A piedi Per ricordare Due vittime Della nevicata Poggia un bricchio Passeggiata Fino al punto In cui morirono Assiderati Lo ricorderete La storia Un anno fa Claudio Marinelli E il figlio Mattia L'iniziativa E del cai Di isola E si svolgerà Domenica mattina La prologo di Santa Croce Vuole deporre una pietra Con i nomi Dei deceduti Dove i loro corpi Vennero ritrovati Siamo già allo sport E allora Prima di arrivarci Perché poi Lo sport lo faremo Su tutti i giornali Insieme Per vedere anche Le differenze Tra l'uno e l'altro Tra poco Vedremo Anche Vediamo la prima pagina Del messaggero Con Mattarella INFN Laboratori di fisica Sono l'orgoglio D'Italia E allora Andiamoci a vedere Il servizio Realizzato Da Daniela Rosone Trent'anni di ricerca Dei laboratori di fisica Nucleare Del Gran Sasso Celebrati con la presenza Del presidente Della Repubblica Sergio Mattarella Che li ha definiti Un motivo di orgoglio E prestigio Per il paese Un discorso breve Ma intenso Quello del presidente Che ormai è un abitue Delle visite all'Aquila Da tempo Desideravo venire Perché questo è un punto Di eccellenza Tra i più alti Del nostro paese Un punto Che costituisce Un motivo di prestigio E di orgoglio Per l'Italia Appostata Dal carattere internazionale Dei laboratori Non soltanto Testimoniati Dalla presenza Di tanti Ricercatori Studiossi Di ogni parte Del mondo Ma anche Per la continua Interazione Il continuo Confronto Il continuo Scambio Di esperienze Di conoscenze Con tanti altri Nuovi di ricerca Del mondo I laboratori nazionali Del Gran Sasso Dell'INFN Per dimensioni e ricchezza Della strumentazione scientifica Sono il centro di ricerca Sotterraneo Più grande e importante Del mondo Dove hanno condotto I loro studi E tuttora collaborano Scienziati di fama Internazionale E premi Nobel Come il professore Senatore a vita Carlo Rubbia Barry Berish Premiato nel 2017 Per la scoperta Delle onde gravitazionali I laboratori Sono stati progettati E costruiti sotto 1400 metri di roccia Con lo scopo Di sfruttare La protezione Della montagna Dalla radiazione cosmica Che raggiunge Incessantemente la terra I laboratori Si trovano così immersi In quello che i fisici Chiamano silenzio cosmico Una condizione necessaria Per svolgere L'attività scientifica Fu nel 1979 Che il professor Zichichi All'epoca presidente Dell'INFN Ebbe la straordinaria idea Di dotare l'istituto Di un grande laboratorio Sotterraneo Con strutture tecnologiche D'avanguardia Per studiare Le nuove frontiere Della fisica Il laboratorio Sotterraneo Più potente E grande Non solo grande Ma potente In quanto dotato Di attrezzature Di grandissima precisione In molti parametri Fondamentali Insomma Quello che si può fare qui Non si può fare In nessun'altra parte del mondo Questo laboratorio Nasce Qui In quanto Ci sono diversi Motivi Molti dei quali Di fortuna Affinché qualcosa avvenga Le opposizioni di allora Si ripropongono oggi Con le polemiche Sull'esperimento SOX Zichichi Risponde così Noi siamo Per la difesa Infatti ho citato Oggi nel discorso A Mattarella Gli ecosistemi Per questo Che noi siamo Impegnati Per rispettare La natura Così com'è Quindi non siamo Contro Siamo a favore Intenso Intenso anche il discorso Del sindaco Dell'Aquila Pierluigi Biondi Durante la cerimonia Che ha parlato Al presidente dell'Aquila E dei suoi sforzi Per la ricostruzione Citando anche Il problema grave Dell'aumento Dei pedaggi Allo stradale Un'occasione unica Per riportare Il presidente I problemi Che affliggono Ancora oggi L'Aquila Il presidente Di NFN Fernando Ferroni Ha illustrato invece Risultati raggiunti Dai laboratori Parlando dei ricercatori Che popolano Il laboratorio Il 35% Dei giovani È rientrato dall'estero Per lavorare qui Un buon segnale Per l'Italia Il professor Stefano Ragazzi Direttore dei laboratori Ha illustrato le attività E la forza Di questo patrimonio Italiano e mondiale E allora Andiamo avanti Continuando nella lettura Del quotidiano Il messaggero Andando a Pescara Targhe alterne E bici per area pulita Sei sindaci E l'Arta Studiano strategie Antinquinamento Nell'area metropolitana Istituita Una convenzione Tra città Soddisfazioni Per l'iniziativa A febbraio Le prime valutazioni Domeniche ecologiche In caso di picco Bus a luglio Ma la strada Parco È a pezzi A breve Il passaggio Dei mezzi A metano Ma atti vandalici Impongono interventi Sul corridoio verde E sul corso Vittorio In basso Sempre per La viabilità Aumentati i posti auto Per i disabili In comune E poi Nuova Pescara Tutti a rapporto Oggi in Commissione Bilancio A peschiara Sempre Piazza Troilo Il non luogo Tra università E tribunale Tra ambizione E crisi Identità L'esperimento Non riuscito Di farne Il cuore Del nuovo quartiere Lo sfarzo Dei materiali Cozza Con l'assenza Di vita E di una Reale Vocazione Urbanistica In basso Rapina violenta Sul bus Due arresti A una fermata Scaraventano Un anziano Sul marciapiede Per derubarlo Dei locali Dei regali Di Natale E poi La protesta Scuole a rischio Affissi nella notte I manifesti Del blocco Studentesco Sempre a Rimaniamo adesso Torniamo sulla questione Rigopiano Con queste parole Li hanno portati a morire Con la scorta La polizia provinciale Aiutava gli ospiti Del resort A montare le catene Il sindaco Li accompagnava Nuovi particolari Shock Nel rapporto Dei carabinieri Forestali La ricostruzione Delle ore Precedenti La valanga In base All'esposto Della famiglia Parete E poi L'anniversario In arrivo Dove la neve Non cade Un disco corale Di artisti abruzzesi In onore Delle vittime E poi Il primato angolano Miracolo A città Sant'Angelo Nella top ten Delle città Ideali Qualità della vita Bellezze artistiche Paesaggistiche Fattori decisivi Per Forbes Esulta ovviamente Il sindaco Florindi Poi Per i pionieri Una vita Trebinari Morto Nicola Fuschi Lo storico Capostazione Di Montesilvano All'Aquila Italia Nostra Lancia l'allarme In centro Lavori Approssimativi Nel mirino Il cantiere Dei sottoservizi Gli scavi Potrebbero Creare danni La fontana Scoperta San Bernardino È stata troppo Frettolosamente Ricoperta Il caro Pedaggio Autostrada A Roma Vertice Interlocutorio Con i sindaci In basso Via Ficara Viabilità Caos Si studiano Interventi In relazione A comune Si valutano proposte Per traffico E parcheggi Sempre Rimaniamo All'Aquila La famiglia Di Michelone Chiede Due milioni Si è chiuso Ieri Il primo dibattimento In sede civile Per il crollo Della casa Dello studente Sentenza Entro l'anno Il giovane È una delle otto Vittime Della tragedia Del 2009 L'avvocato Della Vigna Ha citato Regione Abruzzo E ADSU Monumento Alle vittime Il comitato Del no Aggiusta Il tiro Andiamo a Sulmona Dove il sindaco Casini Ritira le dimissioni Dopo 19 giorni Di vacazio La amara constatazione Nel primo cittadino Il governo Non ci ha Neanche risposto Informalmente Ha annunciato Che la battaglia Contro la centrale Slam Non la molla E che anzi È pronta a tornare Subito In campo Ad Avezzano Bar scassinato Portati via I soldi Dell'affitto In basso Arrivi Sondoli L'adolo armato È inseguito È arrestato In quattro Avevano rubato In un bar A Campo di Giove Un carabiniere Resta ferito Nella colluttazione E poi ad Avezzano Maxi multa Della finanza A un noto Professionista A Chieti Concerto di Uto Ugi Richieste boom Per l'evento Tre maxi schermi Telefoni bollenti Al Marruccino E molti cercano Il biglietto Per la cerimonia Del bicentenario E poi Dall'altra parte Invece D'altro tenore Chiamate Al 118 Giovane Va a processo Trentenne Imputato Per interruzione Del pubblico Servizio La tragedia Auto Finisce sotto Un tir Due morti Il tragico Bilancio Sono anche Feriti Gravi Una donna E l'autista Del mezzo Pesante Un 45enne Di Cassino Incidente Lungo La trignina Al confine Tra Molise Abruzzo Le vittime Santonofrio A Teramo Nell'incendio Nei locali Della Asl Non ha inquinato L'area E rogo A Casalena Niente benzene Lo ha stabilito L'arta Dopo i test I campioni Visionati Nei laboratori All'Aquila Range Simile All'Urbano Di spalla L'ex direttore Terca Sinaula Ci ho rimesso 100.000 euro Dice Fui chiamato Dalla direttrice Dopo il commissariamento E mi dissero Che erano Dispiaciuti Antinori Chiesta Condanna A 9 anni Per il ginecologo Teramano Severino Antinori In basso Per la politica Gatti Sfida 5 Stelle D'Ignazio Insieme Al Partito Democratico È un interrogativo Ovviamente Giulianova Tassa di soggiorno Ecco Tutte le tariffe Già elaborate Il 2016 Corredate Dai tanti Casi Di esenzione Del pagamento A come minciare Dai minori Fino a 10 anni Altre agevolazioni Per le famiglie Numerose E gli anziani Il provvedimento Entrerà in vigore Da maggio Fino a Settembre Alba Adriatica Comunali 5 Stelle In azione Rebus Saccomandi Rapposelli Smentita la notizia Secondo cui Sarebbero noti I dati Della perizia E poi Truffa Gli anziani Presi A Venezia Andiamo adesso Sul quotidiano La città Perché Per vedere Come il dossier Teramo Rimanga fuori Dalla lista Dei finalisti Svanita Svanita la speranza Di entrare Nella top 10 Della capitale Della cultura Il progetto Della candidatura Mai presentato Alla città Queste sono Vedete Le 10 Finaliste E ovviamente Non c'è La città Di Teramo Che è tra le 21 Città Escluse In basso Giudiziaria I pronti Contro Controtermine Tercas Erano destinati Alla clientela Privileggiata Al processo parla Uno dei direttori Di area commerciale Coinvolti Nelle operazioni Sulle azioni Della banca E all'Ater Area di cambio Al vertice Poltrona calda Per l'amministratore Unico Rampini Scontro nel PD Sulla nomina Del successore Casalena L'incendio È di origine Dolosa Nei locali Della ASL Trovate tracce Di liquido Infiammabile Le analisi Dell'arte Escludono Dei rischi Per la Salute Sempre a terra Mostrisce Blu Con la clausola Pro Cooperative Sociali Il commissario Pizzi Dimostra Sensibilità Alle stanze Di salvaguardia Espresse Dai lavoratori Della Tercop E poi La frazione Nel caos Grarrano Trattata come Pontevezzola Il comitato Segnale Di disagi Dell'apertura Della Variante Per la Politica Morra Raccoglie Adesione Al progetto Fratelli D'Italia AN Il partito Della Meloni Apre il circolo Di Atri Saluta L'ingresso Di Nucellese Storico Esponente MSI Per la provincia Due indagati Per lo scuola Bus andato a fuoco Torricella La procura Procede per Incendio Colposo Nominato Un consulente Per la perizia Sul Mezzo E adesso Possiamo Vedere Lo sport Ripartendo Dal centro Zamparini Gela Il Pescara Si va Verso Il no Per Embalo Anche se Poi Procuratore Beppe Accardi In collegamento Telefonico Con noi Ieri sera Durante le play Ha un po' Ridimensionato La questione Comunque Il Palermo Blocca La cessione Dell'attaccante Guineiano Anche Falco Si allontana Sabato Affoggia Zeman Spietato Con la sua Ex squadra Perché Ha vinto Tre volte E ha segnato 13 gol In basso Pomante Grande Ex Biancoazzurro Dal mercato La spinta Per i playoff Oggi Difensore del Pineto La squadra È forte Ma non A misura Del boemo La priorità È l'esterno Offensivo Anche se Mancuso Dice Pomante Dimosterrà Il suo Valore In serie C Teramo Blinda Milillo Altobelli E Diallo A un passo Dall'addio Teramo Blinda Milillo Altobelli E Diallo A un passo Dall'addio Il difensore In prestito Dal Pescara Resterà Fino a giugno Ilari Caso Vicenza Noi ci alleniamo Per giocare La gara Ital Fuzzal Mammarella E Cesaroni Scalpitano Calcio a 5 La stella L'acqua e sapone Il pescarese Del pesano Nei preconvocati Dell'europeo 2018 In serie D Lavastese Si lecca Le ferite Punzecchia Lavezano Il portiere Marsicano Fanti Attacca I tifosi Aragonesi Sui social Scoppia il caos Il patron Bolami Serve Educazione E Mecomonaco Rifiuta I nero Stellati Dopo essere stato Ad un passo Dal dire Di sì Eccellenza Giulianova E Chieti La serie D E cosa loro Giallorossi Invetta Teatini a meno 5 Il 25 febbraio Scontro diretto Al Fadini E poi Andiamo sul Messaggero Ripartendo dal Pescara Pescara Calaio Sblocca Embalo L'ex Delfino A Palermo E Zamparini Si convince A cedere All'attaccante Mercato Pettinari Non si muove Fino a giugno Benali Promesso Al Crotone Resta Invece Cappelluzzo E per Gravillon Il rinforzo Di gennaio Primo test Domani Contro gli Svizzeri Del Lugano In basso In serie D L'Aquila Caffiero Nel mirino Di squadre Di serie C C'è il rischio Che questa stagione Si trasformi In un Incompiuta Pur Lodevole In serie C Teramo Foggia Va via Pressing Su Carletti L'attaccante Non ha partecipato All'allenamento Ovviamente Foggia Destinazione Sicula Leonzio La società Preme sul Carpi Per avere Il rinforzo Ilari Dura Questa Incertezza Di spalla Avezzano Il dominio Salvato Per un palo Sul 3-0 I soliti cali Di concentrazione Cerone Dice Grande Gara E poi Altre squadre Di serie D Pineto In zona Playoff Ma solo In coabitazione In basso Per la Vastese Con la Vitto Vastese Adesso dobbiamo Subito Rialzarci E per il Basket Leggiamo Siamo a Roseto Nuovi soci Per acquistare Rinforzi Settimana Decisiva Per il futuro Della stagione Gli Sharks Debbono fare La corsa Sull'Orzi Nuovi Per evitare La retrocessione E poi Per la Pallavolo La Sieco Salva Torna L'ottimismo Malanci Critica Il format In basso Nero Stellati Invece Aspettano Meco Monaco Come nuovo Allenatore Con questa notizia Noi chiudiamo La nostra Rassegna Stampa Che torna domani Puntuale Alle ore 8 E vi ricordo Alle 14 L'appuntamento Con il TG6 Per tutte le notizie Dalla nostra regione E tutto Buona giornata Per la Pallavolo 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 Per la Pallavolo